ben ritrovati ragazzi dopo tanto tempo che faccio un brevissimo video giusto per dare qualche tip per i nuovi player sullo stark allora innanzitutto l'obiettivo è lasciare il 50 le fate dopo missioni secondarie e quant'altro per livellare velocemente il gear io in due giorni sono già al 5 20 come mai mi ha tolto il titolo vabbè si è bug di nuovo laura il gioco salendo un po di bug per livellare velocemente consiglio di fare le isole oltre ad alcune missioni secondarie che vi daranno i book di classi gli engraving di classi che sono questi qui che anche gli engraving normale e lascerò il file su youtube ci sono delle isole che danno materiali come vedete sia mentre fate le missioni sia dopo che le completate questo vi darà un aiuto esagerato in particolare le isole che dovete assolutamente fare sono sereniti questa nord verno poi ci sta dove sta foto tarto starlight anche la panna dava qualcosa ma un po in meno e poi da tantissimo shadow island sta sopra sopra verna scusate prima avevo sbagliato era luther lutheran quindi sereniti e vicino lutheran proprio di fianco al porto invece shadow island sta sopra verna e da un'antica infine di materiale materiale intendo queste gemme rosse le blu i diamond per ruppare quindi assolutamente da fare qualche altro tip potete poi farvi la tower shadow però quella diciamo interna del gioco questa qui la tower pure da buoni reward però dovete essere almeno al 4 e 60 di gear quindi quello lo fate dopo e per quanto riguarda i guardian volevo fare l'upload ma sono tutti i guardian già visti sul canale quindi per comodità del tire 1 metto i link e del tire 2 magari rifaccio i video solo su o nacrasena o da nacrasena o da io in poi penso più da io perché una grasena è abbastanza semplice quindi lascerò i video dei vecchi guardian così trovate un rapido riferimento e le guide per quanto riguarda gli engraving e anche il completamento delle isole però partite da queste qui che vi ho segnalato nel video per questo video è tutto ciao 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 ciao